Per la nuova versione cliente di RFM 524 e R-STAAB 824, le librerie dei materiali e delle sezioni trasversali sono state aggiornate. Se modifichiamo il modello, e quindi la Mesh F, è possibile conservare i carichi del vento calcolati in R-Wind Simulation nella versione 1.24 se necessario. Ciò significa che se la Mesh F cambia, il carico del vento non deve essere necessariamente ricalcolato. Visualizza i coefficienti CP. Utilizzando sonde pontuali e lineari, è possibile disporre i propri valori dei risultati in qualsiasi posizione del modello. Una nuova opzione per un'analisi del vento più accurata è la visualizzazione e la valutazione delle turbulenze. Ora puoi documentare i dati di R-Wind Simulation nella relazione di calcolo del programma principale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.